Venerdì 12 novembre 2010 qualche minuto dopo le nove comincia qui la seconda parte del giorno delle locuste C'eravamo lasciati con il cavillo per far saltare la folk rule e restiamo negli Stati Uniti Tornando a parlare di derivati che alla fine non sono mai scomparsi e sono sempre tra noi Perché hanno fatto due conti e hanno calcolato che le amministrazioni locali americane avrebbero perso la bellezza di 4 miliardi di dollari Roba che i nostri enti locali in confronto sono degli sfigati Allo Stato attualmente bisogna proprio dire di sì perché per chiudere dei contratti derivati sempre sugli interessi Un po' come quello del comune di Milano, Interest Rate Swap Sono arrivati a rimborsare le principali banche d'affare americane Citigroup, JP Morgan, Bank of America e Annessi con cifre astronomiche Quello che è interessante è vedere chi sono questi enti locali che ci hanno rimesso appunto centinaia di milioni di dollari Dall'autorità per le risorse idriche della California al distretto scolastico di Butler in Pennsylvania Comprese le prestigiose università che almeno sulla carta dovrebbero intendersene di questo come Harvard o la Cornell Per dare un'idea c'è per esempio un'amministrazione pubblica della North Carolina Che ha versato 60 milioni di dollari per chiudere uno di questi derivati Più o meno la somma dei salari annuali di 1.400 impiegati statali Però? L'Università di Harvard è andata ancora peggio L'Ateneo ha sborsato 800 milioni di dollari per chiudere un maxi swap da 1,8 miliardi Che era stato siglato a suo tempo con JP Morgan e Goldman Sachs Questi sono solo alcuni appunto di queste amministrazioni che hanno dovuto ricorrere alla chiusura Perché perdevano un sacco di soldi con questo giochino degli swap sugli interessi Chi immagino non abbia perso molti soldi con i derivati Perché uno che da sempre ci vede lungo Tanto da essere uno dei papà del mercato del future È il professor Richard Shandor Parliamo del professor Richard Shandor Perché è lui che qualche anno fa aveva dato vita al famoso Chicago Climate Exchange Ovvero un mercato sul quale 450 grandi aziende americane Si scambiavano i diritti ad emettere una tonnellata di anidride carbonica Come previsto dal protocollo di Kyoto Protocollo peraltro mai ratificato dagli Stati Uniti Così erano solamente scambi volontari Nella attesa che il Climate Change Bill voluto da Barack Obama diventasse leggenda Legge e anche leggenda invece Visto che probabilmente non verrà mai approvato Infatti pochi giorni fa il Chicago Climate Exchange di Shandor Ha annunciato la chiusura Fine delle trasmissioni Perché probabilmente dopo l'esito delle elezioni di midterm Si è capito che si stava giocando Infatti in Italia c'è chi esulta di fronte a questo annuncio Un paio di giorni fa il Foglio ha ospitato un paginone intero Sul fallimento della Green Economy di Obama A firma di Carlo Stagnaro Che è il direttore dell'Istituto Bruno Leoni Che si distingue per essere il think-fank Contro i cambiamenti climatici Contro gli interventi a favore del clima E contro le rinnovabili E quindi esultava per la chiusura di questo mercato Che in realtà poi è solo un mercato finanziario Non un mercato reale Quindi poco ha a che fare secondo me Con realmente con i cambiamenti climatici E la lotta ai cambiamenti climatici Invece di quel che resta della crisi C'è per esempio tra le altre cose Un'asta che è in scena in questi giorni negli Stati Uniti Perché stanno mettendo all'asta i beni di Bernie Madoff Probabilmente uno dei grandi protagonisti di tutta questa avventura di truffe ed associati Ci sono cose importanti e anche di pregio Tra i prodotti che verranno venduti all'asta Per cominciare a risarcire parzialmente le vittime della truffa Tra le cose che stanno mettendo all'asta ci sono anche le mutande di Madoff Giuro che non sto scherzando C'è anche la fotogallery che è rimbalzata pure sui giornali italiani Ci sono dei bei boxeroni a quadrettoni di Bernie Madoff Professor Di Stefano Forse se l'hai dimenticato ma oggi è il mio compleanno Mi piacerebbe molto se mi regalasse i boxer a quadrettoni di Bernie Madoff Ma sei sicuro? Se lo desideri proprio possiamo andare su internet e facciamo l'acquisto Ma non so se ti conviene Se in alternativa vuole regalarmi i suoi Lei è un uomo da boxer a quadrettoni oppure da perizoma leopardato? No grazie boxer senza quadrettoni Senza quadrettoni Invece sul tema dei boxer leopardati Su Dago Spia di ieri C'erano ulteriori rivelazioni sugli scandali sessuali di Villa Certosa Di una nuova escorta anonima Che racconterebbe che in realtà il Bunga Bunga Eppure una discoteca Che Berlusconi ha fatto costruire sottoterra a Villa Certosa Cioè normalmente c'è il box o la tavernetta in Brianza Lui c'è la discoteca Bunga Bunga In cui fa vestire le ragazze da presidenti Cioè c'è quella vestita da Putin Quella vestita da Obama con tanto di maschera E queste si struscono attorno al palo E si svestono a vicenda Tipo c'è Zapatero che denuda Sarkozy Così eccetera 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 Oddio madonna A lei capita di fare queste cose? Come no? Sempre sì Veste la fanciulla da Rockefeller e lei fa il comunismo? Sì certamente Va bene Passiamo ad altre cose che non sono cose meno nobili ed edificanti Perché negli Stati Uniti di truffe se ne trovano di belle Belle con 200 virgolette Per esempio ci sono in questo momento 17 indagati dalla procura di New York Che hanno ottenuto indennizi dal governo tedesco per 42 milioni di dollari Falsificando 5000 pratiche che dicevano che cosa? Che loro erano perseguitati dai nazisti E sono riusciti a truffare anche il fondo per la Shoah Una roba allucinante Sì questa è veramente allucinante anche perché nella truffa si erano dati da fare parecchio Avevano descritto una moltitudine di drammi, disgrazie tutte inventate Fuga sotto bombardamenti, nascondigli di ogni genere Però erano tutte delle grandiose balle Era una bolla di balle in questo caso specifico E solo grazie all'agente speciale dell'FBI Stephen Wintonic Ha scoperto che partendo da alcuni casi di vittime vere Alle quali era stata invece negata l'indennità E ha risalito appunto a questo incredibile caso di truffa Con 5600 pratiche fraudolente Secondo me qui scatterà fuori forse un film Perché ci merita questa storia Sono riusciti a truffare anche il fondo per la Shoah Abbandoniamo dunque gli Stati Uniti E torniamo in Italia Perché in Italia sì che ci sono cose edificanti Abbiamo aperto parlando di Pompei E a Pompei ci torniamo Perché nel ottobre del 2008 Il ministro per la cultura Sandro Bondi dichiarava Per Pompei le risorse ci sono Si tratta di saperle spendere E infatti le risorse sono state spese Come racconta un'inchiesta del Espresso Oggi in Edicola Perché di investimenti Due commissari straordinari voluti da Bondi Prima il prefetto Renato Profili E poi Marcello Fiori della protezione civile Di investimenti dicevo ne hanno fatti tanti Facciamo qualche esempio 60.000 euro per la visita del Presidente del Consiglio A cui andavano aggiunti 11.000 euro per la pulizia delle aree Della visita del Presidente del Consiglio E 9.600 euro per l'accoglienza del Presidente del Consiglio Peccato che il Presidente del Consiglio a Pompei Non c'è mai andato Alla fine gli ha tirato buca totale Della spesa 90.000 euro Vogliamo citare qualcos'altro? 12.000 euro pagati per rimuovere 19 pali della luce Oltre 90.000 euro Andati a un centro di ricerche musicali Per l'installazione dei planofoni Questo è mitico Cosa sono i planofoni? Sono degli strumenti per la diffusione del suono nello spazio Praticamente quando Bondi recita una poesia a Pompei La possono sentire anche nella Costellazione di Andromeda 47.000 euro serviti per mettere in piedi l'evento Torna la vite Di cui anche ora oggi discutono nel mondo 547.000 euro spesi per un progetto intitolato Archeologia e Sinestesia Curato dall'Istituto per la Diffusione delle Scienze Naturali E 72.000 euro Visto che non li si denegano a nessuno Dati all'associazione Mecenate 90 Di cui il Presidente onorario è Gianni Letta E il Presidente effettivo Alena Elkan Intanto per non lasciarne a bocca asciutta nessuno Questo è il quadro delle spese Professor Di Stefano Ne abbiamo citate solamente alcune Potremmo aggiungere per esempio 1700 euro per la divisa dell'autista Del commissario straordinario E citare alte spese Questo comunque è il quadro della gestione di Pompei Sì, considerando quello che sta accadendo Praticamente si sta sbriciolando Completamente Prima la casa dei gladiatori L'altro giorno un altro crollo Secondo le stime più funere Ci sarebbero almeno la metà delle ville Pompeiane a rischio crollo Non c'è che dire Speriamo che la Procura di Torra Annunziata Che ha già aperto un'inchiesta Vada anche a verificare L'insieme di queste spese Fatte appunto dai commissari straordinari Di Bondi Ma anche di Bertolaso E in ogni caso Silvio ha rassicurato tutti quanti Stiamo lavorando a Pompei 2 E ieri ha comunicato ai gladiatori Che riceveranno la casa perfettamente ammobiliata Con anche la domotica Praticamente puoi accendere il fuoco da Sparta Con il telecomando Questo Pompei E queste le spese per Pompei Vale la pena invece raccontare Di un nuovo crack tutto italiano Il crack di IBS Forex Sette arresti Banca rotta fraudolenta Falso in bilancio Truffa gravata Un buco da 60 milioni di euro E ci sarebbero coinvolti anche enti Come Regione Puglia Provincia di Milano Quella di Monza E soprattutto quella di Palermo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti